Direi che le prime novità riguardano il comitato di valutazione docenti che stiamo cercando di formare, poi dopo riguardano le immissioni in ruolo che sono notevolmente più numerose rispetto agli anni precedenti, poi proprio in questi giorni i docenti hanno ricevuto un bonus per quanto riguarda l'aggiornamento e la formazione. Ecco, queste sono le prime, poi altre novità importanti riguardano l'alternanza scuola-lavoro e quindi i periodi trascorsi in azienda dagli studenti che per quanto riguarda gli istituti tecnici saranno a 400 ore, quindi molto aumentati, e poi dopo ancora curriculum dello studente, quindi sono tantissime le novità e adesso piano piano, con pazienza, stiamo cercando, come si dice, di implementarle un po' nella scuola. Un altro tema molto importante di questa riforma è quella dell'edilizia scolastica. Cosa è cambiato negli spazi scolastici? Ma lì purtroppo poco, ecco, noi speriamo e ci aspettiamo maggiori finanziamenti perché qui a Cesena e anche in tutta la provincia di Forlì-Cesena ci sono delle gravi carenze per quanto riguarda gli spazi, per cui abbiamo bisogno quindi noi come istituto agrario, ma non solo, di laboratori, di nuove aule e quindi ci aspettiamo investimenti importanti. Ecco, buona scuola si fa anche con buoni edifici, edifici di qualità e questi noi li stiamo aspettando.